Sono sul mio profilo TikTok, come potete vedere segna 10.3k di follower, quindi più di 10.000 follower. Da quando ho applicato il metodo che spiego nel corso musicista TikToker, io ero partito, avevo 250 follower, quando ho veramente scoperto, diciamo, come crescere velocemente e l'ho poi spiegato nel corso musicista TikToker, sono cresciuto di oltre 10.000 follower senza dover fare balletti, senza dover seguire stupidi trend, ma soltanto con le mie canzoni, come potete vedere dalla mia pagina TikTok, vi faccio vedere strumenti per i creator, analitica, qui purtroppo non mi segna gli ultimi 30 giorni, io vi volevo far vedere gli ultimi 30 giorni, ma c'ha 7 giorni, 28 giorni, facciamo 28 giorni, nuovi follower, guardate la crescita è esponenziale, ripeto, qui mi dice dal 30 gennaio al 26 febbraio, ma se contassimo dal 28 di gennaio al 28 febbraio, 30 giorni, un mese, sarebbero più di 10.000 follower e tutto questo senza fare stupidi balletti, stupidi video, ma soltanto con la mia musica, solo video musicali, spiego tutto nel corso musicista TikToker, l'elemento chiave sono le sponsorizzazioni che al momento non costano niente, praticamente il costo è bassissimo e tutti i musicisti dovrebbero assolutamente approfittarne, nel corso musicista TikToker spiego come fare, spiego che video fare, come strutturarli, quali sponsorizzare, come sponsorizzarli passo a passo, tutti i tutorial ci sono, leggetevi questa pagina, la pagina del corso musicista TikToker, spiegato tutto e poi acquistate, sfruttate l'offerta lancio così risparmiate anche, entrate subito, ci vediamo dall'altra parte.